A Firenze Viola Supersport, è con grande dispiacere che il board dell'All England Long Tennis Club ha deciso di cancellare Wimbledon 2020 in ragione dell'allarme per la salute pubblica. La prossima edizione di The Championship, così è chiamato Wimbledon, si terrà dal 28 giugno all'11 luglio 2021. See you soon. Ci vedremo. Arrivederci. La cravatta del circolo di Wimbledon, che inopinatamente io indosso, anche se sapete quanto ami i paesi anglosassone, il mio amore per l'Irlanda, che non è un paese anglosassone, bensì celtico, è assolutamente viscerale. Dunque, il coronavirus cancella anche Wimbledon. Il torneo si doveva giocare dal 29 giugno al 12 luglio, è stato cancellato. Così, dopo ben 75 anni, i Doherty Gates, che sono i cancelli che danno l'accesso all'All Long England Club, rimarranno chiusi e quindi non avremo la panna acida, non avremo le fragole, non avremo i cappellini, non avremo i raccattapalli efficientissimi come sempre, non avremo l'inclino al Royal Box, non avremo tutto quello che fa di Wimbledon, a mio modestissimo avviso, il torneo numero uno al mondo. La superficie in erba si gioca soltanto a Wimbledon e nei tornei di preparazione. Mi viene a mente il Queens, mi viene a mente Halle, tanto per dire due o tre tornei che si giocano sull'erba. Nel giorno in cui la Gran Bretagna per la prima volta ha avuto più di 500 morti in 24 ore, non ci potevano essere indugi, dopo che la settimana scorsa la decisione era stata rinviata in attesa di novità che non potevano essere benauguranti, col punto fermo del rifiuto di giocare. Quindi, fermo Wimbledon, sentiamo cosa ha detto il campione in assoluto di Wimbledon, otto le vittorie di Roger Federer sui prati, che è un po' il giardino suo di casa, ha superato Sampras e Rainshaw, ha detto I can't wait to come back next year, dice non vedo l'ora di tornare il prossimo anno. Quindi delle fake che si era viste che lui aveva cessato l'attività per quest'anno e per sempre, non sono assolutamente, assolutamente attendibili. Sentiamo i commenti di altri immensi campioni. Serena Williams, sette titoli. Quest'anno non si giocherà a Wimbledon, è una notizia che mi lascia sotto shock, ha detto la tennista statunitense. Simona Halep, campionessa uscente del 2019, la rumena. Sono triste per non difendere il titolo, ma stiamo vivendo qualcosa di più grande del tennis. Beh, lei, Martina Navratilova, nove titoli, la grande avversaria di Chris Evert, e non solo. Wimbledon e il tennis sono un lusso. Adesso la priorità è restare a casa e al sicuro. Boris Becker, Wimbledon non si poteva spostare, l'erba si può preparare soltanto estate, ha detto Boris Becker, vincitore per tre volte del torneo, del championship. Berrettini, il nostro numero uno, numero otto al mondo, ma numero uno italiano. Questi campi sono speciali, serve tempo per prepararli. L'anno scorso ha raggiunto gli ottavi con Federer, indimenticabili. Indimenticabili. Peccato non poter difendere il titolo a Stoccarda. Sapete che è ferma tutta l'attività e quindi non può difendere il titolo giocato sull'erba. Berrettini l'anno scorso vinse il torneo di Stoccarda e lì, come dice, mi sono scoperto erbivoro. Ma mi piace avere il commento, non me ne voglia Nicola Pietrangeli, ma uno del più grande, forse il più famoso dei tennisti italiani di tutti i tempi, Adriano Panatta. È vero che Pietrangeli ha raggiunto le semifinali a Wimbledon, cosa che quello sciagurato di Adriano Panatta nel 1979 non è riuscito a ottenere contro Dupré. Panatta, la prima volta che lui ha fatto l'apparizione a Wimbledon, ero ancora junior. Mi impressionarono il silenzio, perché sull'erba la palla non appesano il rumore e la compostezza del pubblico. Solo i tifosi azzurri, in una Davis che giocammo contro la Gran Bretagna a Wimbledon, riuscirono a far casino nel tempio del tennis, naturalmente. Adriano Panatta, nostro, dicevamo, indicato campione, vincitore dell'Internazionale d'Italia, Roland Garros nel 1976, la Coppa Davis nel 1976, il giocatore che aveva più volte sconfitto Bjorn Borg nella sua carriera, rimpianto, dicevamo, del 1979 per essere stato eliminato sciaguratamente da Paddoprene e Quarti, ma anche dei bei ricordi. Il match sul centrale contro Neil Freezer, per esempio, con un cerimoniale inglese elegantissimo e antipaticissimo, che prima mi accoglie in un salottino con i divani fiorati e mi dice c'è la famiglia reale nel Royal Box, faccia l'inchino. Oddio, faccio l'inchino? Io che sono repubblicano, mi ricordo a Fraser, Neil, che devo fare? La romanità e l'indolenza di Adriano Panatta si vede in tutto questo suo descrivere il cerimoniale. E lui, australiano, chiaramente, membro del Commonwealth, quindi la regina è la sua regina, basta che accenni un cenno con la testa e così fu. Adriano, la singolarità del luogo? Domanda Gaia Piccardi, reputo una delle migliori giornaliste italiane. Wimbledon è pura storia d'Inghilterra, ha un fascino unico, è snob e classista, solo i più forti si cambiano sotto il centrale. È tradizione, le code, le fragole, i pins, i cappellini. Chi ama il tennis deve andare i primi giorni sui campi secondari. Spettacolare. Io, la mia esperienza a Wimbledon, 1980, a vacanze studio, parto a notte praticamente per andare a Wimbledon, perché i biglietti sono sempre esauriti, però chi si mette in coda può avere l'opportunità di trovare dei biglietti, arrivando a un'ora antelucana, trovai il modo di avere un biglietto e assistetti proprio nei campi secondari. a delle partite. È un mondo meraviglioso di quello che succede sul campo, vicino al campo e fuori dal circolo. Poi ci sono ritornato successivamente, ed è bellissimo, anche l'avvicinamento, uscendo dalla metropolitana e avviandoci verso il campo e verso il circolo. Sentiamo chi? Wimbledon. Noi speriamo assolutamente di vederlo protagonista. Jakob Sinner, che in questi giorni in cui tutta l'attività è ferma, ma Yannick Sinner è il più giovane giocatore a finire l'anno tra i primi 80 del mondo. 78, ora è il numero 73 dai tempi di Rafa Naval. Nadal sta trascorrendo l'isolamento a Monte Carlo e ha lanciato un'iniziativa benefica che sta riscuotendo grande successo. Versa 10 euro per ogni post sul suo profilo Instagram, che ritragga una pizza con il suo volto o quella di un personaggio famoso. Infatti ci sono le foto a pagina 31 della Gazzetta di ieri. Come sta andando la raccolta fondi di Sinner? Direi molto bene, sono contento che l'iniziativa della pizza sia piaciuta. Tutti abbiamo il dovere di fare qualcosa di fronte all'emergenza. Tra qualche giorno, assieme al mio staff, decideremo a quale ente devolvere i soldi. E la quarantena? Sono in appartamento a Monte Carlo da solo. Riccardo Piatti, ogni giorno mi manda il programma di allenamento per il mattino ed il pomeriggio. Lavori a secco sulla mobilità laterale e il potenziamento delle gambe e delle braccia. E la racchetta? Purtroppo il Country Club è chiuso. Erano giorni questi in cui si stava giocando, eravamo lì per giocare il torneo di Monte Carlo. Ricordiamo l'unico Master 1000 vinto da un italiano ed è stato quello di Fabio Fognini. Proprio l'anno scorso. Ovviamente al momento non possiamo spostarci nemmeno a Bordighera, che è dove si allena il 18enne alto a Tesino. Perciò, tre o quattro volte alla settimana, scendo nello spazio comune del palazzo e faccio qualche movimento senza palla. Solo per il giusto di tenere in mano la racchetta per non perdere l'abitudine. Per il tennis, dice, sono anche giorni delle polemiche con Parigi, che ha deciso da sola le nuove date, suscitando l'ira dell'ATP. Sapete, il torneo di Monte Carlo, che di solito si gioca a maggio-giugno, è stato spostato più in là in autunno, sempre che naturalmente il coronavirus e poi come lo giocheranno, perché non credo che da settembre si possa riunire 15, 20.000, 10.000 persone per assistere a un torneo. Quindi, anche questo sarà tutto da vedere. Dobbiamo rimanere uniti. Le scelte devono essere condivise da tutti, dagli organizzatori ai giocatori. Tutti vogliono cominciare al più presto, ma non possiamo procedere in ultimo spazio, altrimenti è il caos. Se si è fatto un'idea quando rinominciare, giustamente Sinner dice di no. Come si immagina il ritorno al tennis? Molto eccitante. Sarà una grande sfida, avremo tutti così tanta adrenalina in corpo, che nessuno vorrà ammollare un colpo. Dai big ai giovani. Sarà una battaglia. E a me piace la battaglia. Sarà un calendario molto condensato, con gli esopini e Roland Garros, magari uno dietro l'altro, ho appena 18 anni. Voglio giocare e più gioco, più mi diverto. Si dice che i più giovani saranno favoriti per chi entrano in forma prima. Federer e Natal Djokovic hanno lasciato il tennis per qualche tempo e poi sono tornati più forti di prima. Noi giovani probabilmente saremo più pronti fisicamente, ma loro avranno l'esperienza di saper gestire una situazione psicologica molto particolare. Cancellato Wimbledon. È vero, battere Roger a Wimbledon è da sempre uno dei miei sogni del cassetto. E comunque spero di provare al più presto l'emozione di giocare sul centrale di Wimbledon, quindi Yannick è rimandato tutto all'anno prossimo, uno dei campi in cui ti immagini di esibirti fin da bambino. Non so ancora quale sarà il mio valore sull'erba, ma intanto ne approfitto per lanciare un messaggio a Federer. E Federer l'ha raccolto. Gioca un altro anno, così magari il match è rimandato soltanto di 12 mesi. Gli dicono se preferisce il cemento degli USA Open, se dovesse scegliere uno slam con la possibilità di arrivare fino in fondo. Effettivamente, penso a New York, ma anche gli Australian Open mi sono piaciuti. Federer resta per lei una fonte di ispirazione? Domanda il giornalista. Sì, il mio idolo. Cercavo di imitarlo, ma a Melbourne mi sono allenato con Nadal e mi ha impressionato per come tiene il campo. Mi piacerebbe avere la sua personalità. Torniamo al 2019, l'anno dell'esplosione. Quali sono stati i momenti più emozionanti? Indubbiamente la vittoria al Challenge di Bergamo perché mi ha dato la consapevolezza di essere sulla strada giusta. Il successo contro Johnson sul centrale del Foritalico e ovviamente la vittoria della Next Jam perché sono stato bravo a gestire la pressione di giocare con il pubblico tutto a mio favore. E ci metto anche la partita con Monfield ad Anversa. Lì ho capito che anche i Top 10 e lo era. Monfields erano alla mia portata. Ciò che ha sorpreso di lei è stata la capacità nonostante 18 anni di crescere di livello in pochissimi mesi. Sono sempre la ricerca di un livello superiore. Mi sono sempre interrogato se fossi abbastanza bravo da battere i ragazzi nei diversi step. Prima nei Fusers poi nel Challenger e infine nel circuito ATP. Alla Next Jam di Milano mi sentivo bene sul campo ma più della fiducia è stato decisivo eseguire il mio piano di gioco quello che volevo fare io piuttosto quello che fossero gli avversari a dettarlo. Voglio provare ancora quelle sensazioni di vittoria. Sinner è un ragazzo ambizioso nel tennis puoi vincere un torneo e puoi anche perdere tre o quattro primi turni di fila. Quindi la decisione di giocare a livelli più alti rispetto alla mia età è stata una grande sfida. Ho sicuramente preso la strada più difficile ma mi ha aiutato a costruire le aspettative e la pressione che ho messo più su me stesso. Il suo coach Piatti dice che lei sarà stabilmente un top player attorno ai 22-23 anni quindi fra 4-5 anni il principale nemico di un tennista è la fretta. Piatti sa bene che sono molto esigente con me stesso e che allo stesso tempo mi piace lavorare duro. Chiede pazienza e io sarò paziente e noi naturalmente aspetteremo tutto ciò che verrà da questo ragazzo mentre intanto Flushing Middles diventa un ospedale una parte del Billie Jean King National Tennis Center la struttura che ospita gli USA Open a Flushing Middles diventerà un ospedale Covid-19 sapete quanto sta diventando molto molto impattante il presidente Trump ha detto ci aspetteranno settimane terribili saranno 350 eletti che ospiteranno i malati mentre nelle cucine del Louis Armstrong Stadium si prepareranno 25.000 pasti quindi dicevamo e poi lo vedremo anche nello specifico come si sta muovendo tutto il comparto sportivo per combattere il coronavirus andiamo alle notizie di quello che è il calcio pagina 2-3 della Gazzetta il calcio prova per l'ennesima volta a ripartire con due scenari di fondo il primo all'inizio a ripartire dovrebbero essere campionati mentre le coppe europee si affiancherebbero in corso oppure a conclusione dei tornei con l'assegnazione dei titoli a fine luglio e finale di Champions all'inizio di agosto mi immagino io di giocare a luglio con il caldo che ci sarà in qualche regione mi viene a mente la Spagna me lo immaginate giocare a Siviglia di luglio ma anche in Italia giocare a luglio anche se la sera mi immagino con un clima torrido questo sarà veramente un campionato stravolto il secondo scenario mi deve invece un ritorno più avanti nel tempo a metà o fine giugno precedenza ai campionati ma inevitabilmente una fase finale delle coppie con un diverso format per esempio una final di Champions Europa League per dare una spinta a questi due piani la UEFA ci mette anche del suo rinviando i playoff quelli per gli ultimi quattro posti dell'europeo 2021 ex 2020 quindi naturalmente vengono sposti anche i playoff delle nazionali previste all'inizio di giugno probabilmente si giocherà ad ottobre stesso provvedimento per le donne e gli under liberando due slot preziosi per il calendario della serie A due slots sarebbero due date ora bisogna parlare così insomma le porte non sono tutte chiuse attenzione si giocherà quasi sicuramente a porte chiuse perché anche se si dovesse iniziare a fine maggio inizio giugno ma questo ce lo dirà il movimento dei malati la percentuale dei malati del covid se potremo ricominciare e poi sicuramente si comincerà e si finirà a porte chiuse secondo me stanno cercando un rattoppo per finire la stagione pregiudicando poi l'inizio della prossima che dovrà essere quasi sicuramente ad ottobre con poi i danni ai bilanci la Fiorentina perderà circa 20 milioni di euro e i danni che questo porterà a tutte la situazione economica a tutte le società tutto dipende dall'andamento della curva dei contagi appunto e dalla rapidità con cui scenderà ieri il premier Giuseppe Conte non lo può certamente assicurare lui l'ha detto chiaramente una riapertura per il 14 di aprile ma questa riapertura se ci sarà sarà graduale ha già detto stop a tutti gli allenamenti infatti gli allenamenti fino al 13 di aprile stop generalizzato totale senza divisione tra professionisti e non disciplina individuale e di squadre per il calcio in realtà cambia poco le squadre sono ai box da tempo nessuno si sta allenando insomma se per Federica Pellegrini nuoto Filippo Tortu velocità o Elisa Di Francisca scherma la decisione è una novità e li costringe a casa Juventus Inter e Lazio ci sono già da tempo come tutte le squadre Gabriele Gravina che è il presidente federale negli ultimi giorni è quello che più di tutti si è speso per cercare di ricominciare il campionato parla di riprendere il 20 maggio come opzione più ottimistica ormai lo sconfinamento di luglio è nelle cose battezzato dalla stessa UEFA certo poi a immaginare di invadere persino agosto si va a incrociare pure la stagione che verrà in ogni caso per la fase a girone della Champions è scontato il via ad ottobre c'è un effetto anche sul fair play finanziario i vincoli sui bilanci imposti da Neon sono sospese le norme sulle licenze relative alla preparazione e alla valutazione delle future dichiarazioni finanziarie dei club esclusivamente per la partecipazione alle competizioni 2020-2021 per cominciare c'è una domanda che si pongono i medici in questo caso quanto può impiegare un atleta positivo al virus non per negativizzarsi ma per tornare al 100% abile arruabile per le attività sportive logico immaginare un percorso fatto di screening e monitoraggi se un solo calciatore dovesse risultare positivo in corsa tutti i progetti che di ripartenza finirebbero chiaramente nel cestino e non se ne parlerebbe più diverso il discorso che riguarda la preparazione atletica cinque settimane possono essere un tempo sufficientemente congruo nonostante una lunga inattività di due mesi abbondanti il tutto senza dimenticare che la stagione dovrà partire e terminare in un solo modo a porte chiuse sbarrate la riapertura degli strati al pubblico è in questo momento un orizzonte lontano lontanissimo e su questo c'è poco da ribadire l'UEFA ribadisce priorità campionati nazionali in secondo luogo le coppie europee lo stiamo ripadendo in questi giorni ma con lo stesso obiettivo di portare entrambi a compimento per la serie A prevalgono sempre le ipotesi più prudenti cioè ripartire nel primo weekend di giugno tra il 6 e il 7 sarebbe di conseguenza sfruttato gran parte del mese di luglio per i 12 turni rimanenti 13 per chi deve recuperarne ancora uno e ripeto giocare di luglio in Italia è un cimento per uomini veramente duri sentiamo i vari commenti su tutti uno di Cellino Massimo Cellino presidente del Brescia qual è la linea di Cellino la domanda viene fatta dal corrispondente della gazzetta pagina 4 il presidente Cellino la mia linea è che il campionato non possa riprendere per una lunga serie di ragioni gliele elenco tutte ma il mio discorso si basa innanzitutto su due pilastri il rispetto della salute e la salvezza del sistema calcio dopo aver perso questa stagione rovineremo anche la prossima che invece sarà quella decisiva per ripartire l'UEFA è pronta a far slittare le date non può far slittare nulla la stagione si chiude il 30 giugno data di scadenza per la presentazione dei bilanci dei club e dei contratti dei giocatori sono arroganti e irresponsabili dice Cellino pensano solo ai loro interessi economici e alle coppe ma sul campionato italiano non decide l'UEFA decide l'Italia per riprendere l'A dovrà terminare entro il 30 giugno cosa impensabile ci fanno giocare ogni due giorni o la UEFA ha anche il potere di allungare le giornate e farle diventare di 72 ore se vuole fare qualcosa di utile l'UEFA mandasse a Brescia bombole di ossigeno sbaglia come quasi tutti il congiuntivo l'UEFA mandi a Brescia bombole di ossigeno respiratore gliene saremmo grati cosa si aspetta dall'assemblea di Lega di domani il solito casino lo dice senza perifrasi tanto a molti della salute non frega nulla pensano solo ai propri interessi anche lei però ha interesse e non ripartire il Brescia è ultimo si salverebbe me l'ha urlato lo titolo l'altro giorno tu non vuoi giocare per salvarti da che pulpito lui che fa fuoco e fiamme perché pensa di vincere lo scudetto quindi non c'è un pensare unito non c'è un andare avanti unito ma c'è naturalmente le solite consorterie di bottega le solite situazioni che non fanno bene al calcio italiano ognuno guarda il proprio orticello giusto o sbagliato che sia intanto mi piace sempre sottolineare le parole del presidente della Lega Pro Serie C Francesco Ghirelli la salute è una priorità e lui lo sta ripetendo veramente sempre è una una persona di una cortesia amico di Firenze Viola Super Sport che vede molto 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 avanti ed è una persona l'abbiamo visto anche alla revocazione della liberazione il trentesimo della liberazione di Nelson Mandela proprio a Nelson Mandela disponibile e un uomo di sport a tutto tondo la salute dei calciatori dei tifosi dei cittadini è stata sempre e lo è tuttora il faro che deve muovere ogni tipo di decisione Francesco Ghirelli presidente della Lega Pro interviene sul futuro del campionato di C aprire un confronto sul presente e il futuro del campionato di Serie C è certamente positivo così come la condivisione di idee ma questo si farà quando la paura di questo maledetto virus si sarà attenuata o scomparsa noi del calcio dobbiamo imparare da questa terribile vicenda a stare nel cuore della gente cambiamo il vocabolario rispettiamo i tempi stiamo zitti qualche volta vi dico perché io ho la massima stima di questo dirigente oggi una richiesta delle società di chiusura e annullamento del campionato sarebbe controproducente e aggiungo sbagliata andiamo per gradi mi piace sottolineare come la Juve Stabia squadra di Lega Pro ha regalato 5.000 mascherine protettive all'ospedale di San Leonardo di Castellammare di Stabia coinvolto in prima linea nella lotta contro il coronavirus e gli ultra della curva sud della Juve Stabia hanno organizzato un'iniziativa benefica in favore delle famiglie bisognose quindi i tifosi si avvarranno della collaborazione dell'amministrazione comunale della protezione civile questo si sta muovendo anche il Como che ha donato 125.000 euro al Sant'Anna il principale ospedale della città quindi ottima anche l'iniziativa del Como e poi la raccolta fondi degli ex giocatori del Palermo che si mobilitano appunto per la città insieme per Palermo questo è il nome della raccolta fondi lanciata da un gruppo formato da 26 ex rosa nero per la fondazione Sicilia è il patrocino di Comune e l'Arcidiocesi di Palermo portavoce dell'iniziativa Federico Balzaretti Palermo è una città che ci ha accolto con tanto amore è il momento di restituirvi tutto l'affetto ricevuto con fondazione Sicilia e Cop abbiamo deciso di aiutare le famiglie più bisognose partecipano tra gli altri Sirigu Ilicic Micoli Cassani Bovo Darmian Chiar Zaccardo Liverani e Guidolin tutti giocatori che hanno giocato nella compagine rosa nero abbiamo parlato di Wimbledon la cravatta che indegnamente porto è proprio per ricordare questo grandissimo e meraviglioso torneo mi piace chiudere leggendovi un comunicato che mi è arrivato dall'amico Rosucci ve lo leggo perché si parla dello sport spesso che viene dimenticato ed è importantissimo soprattutto in questo momento di crisi lo sport di base ieri parlavamo con la nostra chat del rugby e parlavamo di come l'iscrizione ma non solo del rugby ai bambini ci voglia sicuramente perché la situazione economica andrà a impattare sulle famiglie quindi le iscrizioni le quote di iscrizioni saranno per forza di cose minori ci sarà bisogno veramente dell'aiuto del governo ieri ha parlato degli allenamenti il premier Conte ma ci saranno da parlare anche degli emolumenti alle varie società perché senza lo sport di base lo sport dei ragazzi non si cresce io che ho visto crescere i ragazzi dagli under 14 agli under 18 della Toscana Aeroporti i Medici per arrivare poi alla serie A con quel grande allenatore che è Beppe Sorrentino senza dimenticare Stefan Passon e Pasquale Presutti la Toscana Aeroporti i Medici anche in un momento poi vedremo quello che succederà da un punto di vista economico però può vantare su due grandissime risorse che ha avuto in questi anni innanzitutto un grande vivaio tante persone tanti ragazzi tanti bambini che si sono avvicinati alla rugby e poi la fortuna per avere grandi allenatori ne cito quattro Daniello Valvo Beppe Sorrentino Stefan Basson e Pasquale Presutti al quale va il mio abbraccio come consigliere federale ieri è arrivata la c'è stata la riunione verranno stanziati dei fondi che andranno in primis a salvaguardare quelli che sono gli stipendi dei giocatori perché voi sapete che un giocatore di rugby non accetta le entrate di un giocatore di calcio di serie A ma neanche di una pallabolista di serie A1 mentre invece c'è Rovigo e Valoregbi quale vorrebbero giocarsi la finale loro al di là del fatto che al momento dello stop del campionato c'erano cinque squadre per quattro posti ed erano ravvicinatissime non è detto che nel Rovigo nel Valoregbi possano giocare ma se non possiamo allenarci fino al 13 di aprile poi ammesso e non concesso ritornare in forma giocare le partite a porte chiuse io credo che la posizione scelta dal Rovigo e dal Valoregbi sia sbagliata capisco assolutamente quelli che erano gli introiti che sarebbero entrati in queste società ossigeno puro per aggiudicarsi e disputare i playoff però questa è una situazione di estrema emergenza sono d'accordo con Cellino quando dice noi a Brescia e a Bergamo vediamo passare i camion con le bare e dai responsabili pensare di voler giocare ad ogni costo leggo ciò che mi ha mandato Gianluca Rosucci concerti gratis spettacoli ingresso gratuito sport accessibili a tutti attività recreativa a disposizione di famiglie bimbi e anziani sono solo alcune delle tante attività di base che oltre 38 APS associazioni di promozione sociale appartenenti all'Axi Firenze svolgono sul territorio e che oggi si vedono completamente abbandonate insieme a centinaia di giovani collaboratori questo discorso del coronavirus sta naturalmente impattando su quello che sono i progetti di queste associazioni lo sport e la cultura non sono solo il calcio miliardario o le megaproduzioni non ci dimentichiamo che ci sono migliaia e migliaia di associazioni dal basso che oltre a formare i futuri campioni e anche artisti tolgono i ragazzi dalla strada ha dichiarato Gino Mauro Vitali presidente provinciale dell'Axi Firenze deluso e ammareggiato dal provvedimento governativo nonostante l'impegno sociale e ricreativo che le nostre associazioni svolgono sul territorio sono le più penalizzate dal decreto dai vari decreti indubbiamente vedremo quali saranno gli stampiamenti l'associazione di cultura sport e tempo libero Axi di Firenze da sempre vicino al mondo associazionistico giovanile attraverso la partecipazione le iniziative la rappresentanta e la solidarità dell'Axi Firenze negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo fondamentale nello scenario sportivo artistico e culturale della città autonoma e pluralista e scritta e riconosciuta dal CONI quindi stiamo parlando di associazioni riconosciute dal CONI oltre ad essere membro effettivo dell'organismo internazionale di sport per tutti l'associazione offre quotidianamente ai propri soci assistenza legale amministrativa di comunicazione previdenze grazie a numerosi servizi che l'hanno resa in questo ultimo decennio punto di riferimento per centinaia di circoli associazioni soci e cittadini attiva su tutto il territorio provinciale attualmente vanta circa 15.600 associati due dipendenti e oltre 30 collaboratori per un totale di 38 associazioni quindi mi fa piacere parlare di questo come mi fa piacere chiudere un pastello su carta disegnato a mano che racchiude due occhi gonfi di lacrime rossi infuocati come un sole stanco al tramonto d'estate che sbucano tra un cappello di corzione a mascherina attesa protegge la testa dei pensieri e la solitudine dei fiumi di parole è l'opera omonima covid-19 di un grande della Rarinantes Firenze grande nuotatore nostro personale amico tifoso viola e questo non basta non guasta mai Lorenzo Zazzari in atta Zazzard chi ha la possibilità di avere Facebook può andare a vedere la stupenda opera che ha realizzato il nuotatore il velocista della Rarinantes acquarello olio tempero acrilico matite colorate carboncino gessetti pastelle olio a freschi e lunghe bracciate sin da giovanissimo appena diplomato al liceo Leon Battista Alberti di Firenze accompagna il mondo quotidiano e introverso dell'atleta fiorentino alla ricerca di nuove forme di espressione artistiche tra i tatti dei colleghi Gregorio Paltrinieri Filippo Magnini e celebre voti di Giuseppe Verdi Maddemon Gianni Morandi e D'Arte quindi Lorenzo Zazzari ricordiamo Argento agli europei 2018 nella 4% stile libero Bronzo a Wang Su in basca corta nella 4% stile libero Argento agli europei di Copenagher nel 2017 in basca corta nella 4% e bronzo nella 4% mista Argento ai giochi mondiali universitari di Taipei nell'agosto 2017 nella staffetta a 4% e a numerose medaglie d'oro ai campionati mondiali italiani assoluti quindi ringraziamo l'ufficio stampa della Rari ringraziamo soprattutto Lorenzo Zazzari un ragazzo dolcissimo oggi la nostra consueta rassegna stampa e finisce qui e se chiude Wimbledon ha chiuso veramente lo sport da Paolo Caselli una buona giornata a tutti